Hey là! Buongiorno, buonasera, buona notte e benvenuti nel nostro canale! Oggi siamo qui tornate per farvi vedere i miei regali di compleanno, ebbene sì! Il suo compleanno è stato il 25 maggio, perché non lo sapessi? Non sappiamo ancora quando uscirà questo video, perché mancherà ancora un po' di regali, per cui faremo due step, quindi in uno non step saremo vestiti così, in un altro vestiti così. Chissà cosa, chissà come. E niente, direi di iniziare subito senza perderci in chiacchiere. La maggior parte dei prodotti che vi faremo vedere sono stati acquistati su Amazon, perché ovviamente sono stati acquistati periodo quarantena, o comunque si possono trovare su Amazon, per cui qui sotto nell'info box vi lasciamo tutti i link, potete cliccare e acquistarli se vi interessano, e niente. Dai nostri genitori ho ricevuto questi palloncini, che avete visto anche nella miniatura, e nella foto che è uscito sul profilo Instagram di alufuntchannel, e una forma di 5. E niente. Poi sempre i nostri genitori mi hanno regalato due cover. Allora, una è questa qui, una marca della Vodafone, ed è fatta con materiale riciclato. E invece l'altra è della Cellular Line, come tutte le altre che ho. Hai detto Cellular Line? Sì, l'ho detto solo guardate. Ed è verde acqua, non rende molto dalla fotocamera, però è verde acqua. È colore Tiffany, comunque per spiegarci. Poi sempre dai nostri genitori ho ricevuto questo, che è di Legami, ed è una specie di photo holder wall calendar. Adesso ve lo apro a loro, questa fantasia del mondo, con scritto Never Stop Exploring. Adesso si apre, aspettate. Ed è un calendario. Ed è un calendario lungo, infatti, in cui ci puoi inserire le foto qui dentro. Infatti è molto carino. E dovremmo assolutamente farlo, perché è un calendario di quest'anno. Di 2020, per cui ormai siamo già a giugno, per cui devo personalizzarlo, ma aspettavo di farlo per farvelo vedere. Comunque è molto carino, si attacca al muro e ci sono tutti i mesi. Poi la Auri, invece, mi ha regalato questi pennarelli della Giotto, che sono brillantinosi, e ci sono queste colorazioni. Sono molto generosa, molto brava. E la più bella, in assoluto, è quella lilla. Cioè, praticamente, scrivono già brillantinosi. Sono brillantinosi e pastello. Sono bellissimi. Infatti la punta è brillantinata, se si vede. Ma proprio belli, belli, belli. E sono pure abbinate alle mie unghie ad oro. E l'altra cosa che mi ha regalato, invece, è questo set di pen point 88 fineliner della Stabilo. Sono, allora, i colori normali più i colori fluo. Sono molto belli. Mi hai spennato, Alice. Però sono contenta. Poi, sempre per stare in mood cartoleria, nostra zia mi ha regalato queste brush pen della Stabilo. Si chiamano Stabilo Pen 68 Brush. Sono 24 e sono tutti questi colori qua, fantastici. Adesso ve le faccio vedere. Mi piacciono tantissimo. Le volevo assolutamente. E sono anche abbinate a queste qui che mi ha regalato l'Auri. Per cui con queste farò i titoli, con queste farò i sottotitoli. Le cose non sono fatte a caso, Alice. Adesso vi faccio vedere la punta. Ed è molto bella. Le utilizzeremo per continuare la nostra serie lettering. Cioè, lei la utilizzerà perché io le distruggerò. Cioè, le distruggerò. Esatto. Te non puoi, le dite le. Non posso. Poi, sempre questa zia, questo fondotinta di Puro Bio, però il colore è troppo scuro, per cui deve andarlo a cambiare. E comunque adesso vi dico, si chiama Puro Bio Sublime, dovrebbe essere tipo... Drop Foundation e questa è la colorazione 4. Ma vi giuriamo, è scurissimo. Cioè, è sicura per me. Lo cambia e prenderò la colorazione Free e 4 la tiene lei che per la sua pelle va bene. Mia nonna mi ha fatto questo bellissimo ritratto che l'ha preso da una foto migliore sul palco. E poi dietro c'è scritto una dedica. Molto carino, dopo lo incordicherò. E poi, vabbè, qua ci sono delle buste con i bigliettini. E l'ultima cosa che vi facciamo vedere in questo pezzettino del video è la ring light con cui stiamo anche registrando il video. Infatti, aspettate. Oh, adoro. Se vedete nei nostri occhi ci sono i cerchietti, tipo... Questa ring light è della marca GVM, perché c'è il sacchettino là. Comunque, vi metteremo qui adesso delle clip dove la facciamo vedere per bene. Per intero. È stato un regalo meraviglioso. Apprezzato da entrambe. Cioè, esatto. Lo utilizzeremo per fare tutti questi video. E si può anche scegliere appunto chiara, scura, intensità massima. Intensità minima. E così sembriamo Barbara D'Urso. E niente. Belle piallate, belle giovani. Adesso vi lasciamo all'altra parte del video in cui ci saranno anche i saluti in tutta la parte finale. Perché devono ancora arrivare dei pacchi da Shane. Eccoci qui tornate nel futuro. Sono tipo passati un bel po' di giorni. Infatti siamo vestite diverse, truccate diverse, eccetera. Però dobbiamo finire il video dei miei regali di compleanno. Perché appunto sono arrivati gli altri regali. Da Shane e da altre persone. Allora, appunto partiamo con i regali arrivati da Shane. Aspetta, non abbiamo ordinato tantissime cose da Shane. Però poi anche lei avrà dei regali che saranno nel suo video che uscirà giovedì. Sempre arrivati da Shane che però faremo vedere appunto nel suo video del compleanno. Perché abbiamo la fortuna di essere nate a 10 giorni di distanza. Circa. Allora, ho ordinato due costumi bellissimi. Poi non so se metterò la foto di come mi stanno indosso perché ho paura che YouTube blocchi il video se mettiamo la foto. Comunque ho preso una taglia S e vabbè, lo diciamo, costavano 12 euro. Il pacco è arrivato in anticipo rispetto a quanto dice. Se è arrivato il 5 giugno e l'ho ordinato il 20 di maggio. Il pezzo sopra è questo qui e il pezzo sotto è fatto così. Era da barcavela questo, insomma. Se no, che non ci vado in barcavela quest'estate. Mentre l'altro, sempre 12 euro, sempre taglia S, è fatto così. Questo è il pezzo sopra e quello è il pezzo sotto. E è bello che dietro il pezzo sopra è fatto così. È molto bello, molto bello. Si taglia perfetta. Comunque scusa che tutti si sentite delle voci, però siamo in lavoro in corso in casa. Sì, esatto, stanno facendo dei lavori in cucina perché cambiamo completamente la cucina. Poi ho ordinato questa maglia rosa fluo. Molto estiva che però adesso qua più a me di rotto c'è un freddissimo. Che è bellissima, dopo me la provo e ve la faccio vedere. E questa è una taglia S, però è leggermente grande qui nella fascia. Quindi avrei preferito una taglia XS a dirla tutta. E niente, è fatta così. E poi per avere la spedizione in gratuità abbiamo... Ah, aspettate, questa costava 7 euro. Abbiamo comprato queste fasce da bandelastiche. Perché stiamo seguendo il workout di Chloe Ting. Per cui abbiamo comprato queste. Cioè, più che altro costavano 3 euro se viviamo per avere la spedizione gratis. Che costa 5 euro, per cui... Alla fine potevamo anche non comprarli. Però vabbè, non importa. Ah sì, sono tanto elastici. Cioè, non sono durissime. Quindi, boh, vedremo se funzionano oppure sono una ciofecca. Poi un mio compagno di classe mi ha regalato questa maglietta della Carrat, che dopo mi alzo e ve la faccio vedere. Di questo colore molto molto bello ed è della taglia XS e mi sta perfetta. Quindi, good, good. Grande amico. Poi, la nostra migliore amica mi ha regalato un'altra ring light. Perché, naturalmente, abbiamo questa qui con cui stiamo registrando e che ci hanno regalato i nostri genitori. Infatti, l'avete vista all'inizio del video. Poi, la mia migliore amica ha regalato anche quest'altra ring light. Che però ci serve perché quello non è troppo poco. E poi questa qui puoi girare per fare orizzontale e verticale, mentre con quella che abbiamo si può fare solamente in orizzontale. Per cui le dirette non le possiamo fare. Però è meglio comunque avere due luci e anche questa qui ha tipo, aspettate, il telecomandino che si regola la luce. Questa è media e questa è calda. Vabbè, non vedete molto però, ok, non importa. Ed è molto molto bella. Vi lasciamo comunque tutti i link dei prodotti qui sotto. Li potete acquistare su Amazon se vi interessa. Anche perché, detto che eravamo appena usciti dal periodo quarantena, non è che si potesse andare tanto in giro. Per cui, niente, noi vi mandiamo un bacione e adesso salutiamo le 10 persone che abbiamo scelto di salutare dal video precedente. Allora, partiamo salutando Urania. Un bacione. Giada, Anna. Un bacione anche a voi. Anche a te, anche a voi. Aurora. Un bacione. Sofia. Un bacione anche a te. Nadia Elgamri. Un bacione. Sara. Un bacione. Elena. Un bacione anche a te. Stefania. Un bacione. Martina. Un bacione anche a te. Federica. Un bacione. E abbiamo finito. Niente, giovedì esce il video dei regali di Auri, per cui mi raccomando attivate la campanella così non ve lo perdete. E niente, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mettete un bel pollice in su. Condividete il video. E vi ricordiamo sempre che sotto, se foste interessati, trovate tutti i link dei prodotti. E niente, un bacione. Un bacione. Ciao.